Dopo la data sineddoche del 1989, nel quadro del nuovo ordine globale mondialistico, il conflitto di classe vede contrapposti il signore apolide e mondialista del capitale liquido finanziario da una parte e il servo nazionale popolare precarizzato dall'altra. Il signore globale elitario coincide con una classe apolide di sradicati ed incappucciati della finanza, di ammiragli del big business e del competitivismo senza frontiere. Il servo nazionale popolare invece racchiude al proprio interno non soltanto la vecchia classe lavoratrice, il proletariato di Marx, ma anche il vecchio ceto medio borghese, quello dell'eticità di Hegel, nel frattempo precipitato anch'esso nell'abisso. Il conflitto di classe dunque, mutatis mutandis, nel nuovo ordine globale vede contrapposta la classe liquido finanziaria degli incappucciati della finanza, da una parte, che vivono di usura, di rapine bancarie, di truffe, di raggiri mediante la rendita finanziaria, e dall'altra invece le classi nazionali popolari dei ceti medi e del proletariato, che figurano come una plebe privata financo degli diritti più elementari. Questo è il nuovo scenario della lotta di classe, che meglio sarebbe definire, come ho provato a sostenere nel mio studio Storia e coscienza del precariato, come un inedito massacro di classe gestito univocamente dall'alto. La lotta di classe è oggi la rivolta dell'elite apolidi e finanziari, che si stanno riprendendo tutto e che stanno letteralmente massacrando, senza incontrare opposizione, i ceti medi pauperizzati e le classi lavoratrici con i diritti sempre più visibilmente annichiliti. Diciamolo apertamente, gli interessi del signore globale elitario sono opposti a quelli del servo nazionale popolare. Ce l'ha insegnato Marx nella società classista, gli interessi del polo dominante sono opposti rispetto a quelli del polo dominato, che pure subisce l'egemonia del polo dominante e quindi scambia per interessi universali quelli che in realtà sono solo gli interessi del polo dominante. Globalizzazione, competitivismo, apertura dei mercati, liberismo e così via. Tutte categorie che giovano unicamente alla parte dominante e che pure, grazie all'opera dell'egemonia diremmo con Gramsci, vengono accettate o meglio subite anche dalla parte dominata, che quindi è dominata insieme subalterno, ossia dominata nelle strutture e nelle superstrutture. Gli interessi del signore globale elitario sono palesemente opposti a quelli del servo nazionale popolare. Non deve essere mai perso di vista questo punto di vista. Libero mercato deregolamentato, più Europa, economia desovranizzata e mille altri interessi del signore mondialista sono di fatto sciagure per il servo precarizzato. E se questi le saluta con entusiasmo è perché dipende dall'egemonia della parte dominante. Non ha una propria grammatica di riferimento. La lotta di classe è quindi perciò stesso sempre anche lotta di classe culturale. Lotta di classe fra grammatiche opposte che rispecchiano interessi opposti che a loro volta mettono capo alla struttura classista nella quale si articola la società alienata. Il servo precarizzato nazionale popolare sta oggi subendo in silenzio in maniera afasica le aggressioni ad opera del suo nemico. La situazione, che già di per sé è drammatica, lo è ancora di più se consideriamo un fatto. Il servo nazionale popolare, come poc'anzi ricordavo, manca di coscienza. Manca di una sua grammatica che gli permetta di chiamare le cose con i nomi propri. Di più manca di una categoria grammatica, di grammatica, di lingua, di pensiero, che gli permetta di organizzarsi conseguentemente nel conflitto. Il servo dovrebbe chiamare sfruttamento planetario quella che il signore chiama globalizzazione. Dovrebbe ancora chiamare libero cannibalismo quello che il signore globale elitario chiama con entusiasmo libero mercato. E così via. La ragione populista, se volessimo riprendere un'espressione del gramsciano argentino Ernesto Laclau, vorrebbe essere per parte sua il tentativo di pensare e di guardare alla realtà dal basso, dal punto di vista del servo nazionale popolare. La ragione populista, cioè, dovrebbe essere la ragione in grado di fornire una teoria rivoluzionaria di emancipazione del basso, di modo che il basso, il servo nazionale popolare, si liberi dall'egemonia culturale dell'alto, ossia del signore globale elitario. La ragione populista dovrebbe dunque essere la teoria emancipativa del popolo, del servo, della parte dominata. Il quale popolo, o servo che dir si voglia, è oggi letteralmente odiato dai signori del mondialismo liberal-libertario e dai padroni del discorso di completamento, il clero intellettuale e il circo mediatico, che sempre e solo glorificano con le proprie superstrutture l'ordine dominante della classe egemonica. Da questo punto di vista, la categoria di populismo con cui oggi la neolingua diffama ogni tentativo di emergenza delle prospettive del basso e delle rivendicazioni del popolo, rivela di fatto un odio generalizzato verso il popolo stesso, che è l'odio proprio del padronato cosmopolitico, del patriziato globale e più in generale della global class dominante. Per provare a pensare altrimenti e da lì a essere e ad agire altrimenti, occorre rovesciare le mappe dominanti, respingere al mittente le categorie con cui il polo dominante ci domina anche sul piano mentale, facendosi che noi, oltre all'ordine mondiale, accettiamo anche l'ordine mentale corrispondente. Occorre dunque rovesciare l'ordine simbolico gestito dai padroni del discorso e dai pedagoghi del mondialismo. Populista, diciamolo apertamente, è oggi nel quadro del nuovo conflitto di classe chiunque difende interessi che non siano quelli dell'elite capitalistica dominante liquido finanziaria. Per questo motivo occorre oggi seguire la via della ragione populista. Per questo motivo ancora è di vitale importanza rovesciare le grammatiche dominanti e provare a tratteggiare una nuova mappa del pensiero che pensi le cose dal punto di vista dei dominati. Occorre dunque provare a ricostruire ex novo un linguaggio culturale e politico del basso per il basso, ossia un linguaggio politico e culturale che assuma come fuoco prospettico il servo nazionale popolare precarizzato e irrappresentato in vista della sua emancipazione. In una parola occorre ripristinare una lingua, una grammatica o un pensiero che difendano gli interessi dei dominati e non quelli dei dominanti, del servo nazionale popolare e non del signore globale elitario. La strada è lunga naturalmente, averla individuate è già qualcosa, si tratta ora di provare a percorrerla in direzioni ostinate contrarie, risalendo controcorrente i flussi palustri del pensiero unico, globalizzato, che ci sta dominando a livello materiale e immateriale.